A Cosenza è stata Barbara Modaffari la prima operatrice sanitaria dell'Annunziata ad aver iniettato la prima dose del vaccino anti-covid. La dottoressa Modaffari è nata a Reggio Calabria, cosentina di adozione e infermiera nel reparto di terapia intensiva e rianimazione. È un operatore in prima linea per scelta, reduce da un turno di notte della prima operatrice d'esser stata vaccinata all'ospedale Annunziata di Cosenza. Tutto come previsto nel pieno rispetto della tabella di marcia predisposta e coordinata dal direttore dell'Uoc Protezione e Prevenzione Ambientale, dottor Lucia Marrocco, sono iniziate le operazioni di vaccinazione nell'ambulatorio dedicato alla preospedalizzazione all'ingresso principale del lab di Cosenza. L'ospedale civile dell'Annunziata, punto ospedaliero di vaccinazione, somministrerà nella giornata di oggi le prime 60 dosi del vaccino anti-covid. 30 sono state destinate agli operatori dell'azienda ospedaliera e 30 a quelli dell'Asp. Il vaccino è giunto nel lab di Cosenza alle 9.45 proveniente dalla farmacia del Mater Domini di Catanzaro ed è stato consegnato all'equipe dei medici vaccinatori, i dottori Monica Luiz e Roberto Pellegrino, che stanno procedendo ad eseguire le somministrazioni.